Quali sono i sintomi di una leggera commozione cerebrale? Sintomi specifici associati a un leggero commozione cerebrale possono variare a seconda del sistema di classificazione della concussione. Sintomi variabili di lieve commozione comprendono breve confusione, amnesia post-traumatica e lieve mal di testa. La perdita di coscienza è un sintomo che non dovrebbe mai verificarsi con una lieve commozione cerebrale. Una lieve commozione cerebrale può essere causata da lesioni non penetranti che avvengono da un colpo alla testa, forze di accelerazione e decelerazione. Le situazioni più comuni in cui si verificano lesioni alla testa non penetranti sono gli sport di contatto e gli incidenti. Molti sistemi di valutazione dell'uso della concussione usano numeri romani, con una leggera commozione cerebrale classificata come di prima scelta e la maggiore di gravità. A volte, i sintomi di una lieve commozione cerebrale non sono immediatamente riconoscibili fino a quando si verifica un danno fisico o cognitivo come confusione o amnesia. Uno dei segni rivelatori più comuni di una leggera commozione cerebrale è una confusione temporanea sotto forma di scarsa concentrazione, incapacità di elaborare informazioni o attività di sequenza. Tipicamente, in una leggera commozione cerebrale, la confusione dura fino a 15 minuti. L'amnesia post-traumatica, PTA, a volte si verifica immediatamente dopo una leggera commozione cerebrale. Con una lieve commozione cerebrale, la PTA è di solito temporanea, che dura da pochi secondi a pochi minuti. Un individuo che sperimenta un breve PTA a causa di una lieve commozione cerebrale spesso non è in grado di ricordare dettagli precedentemente familiari come nomi, tempo, ambiente ed eventi dopo l'infortunio. La confusione e la PTA non dovrebbero essere accompagnate da una perdita di coscienza in un leggero commozione cerebrale. Il grado di commozione cerebrale deve essere rivalutato se si verifica una perdita di coscienza, se è presente un forte mal di testa o se confusione o PTA persiste per più di 15 minuti. Una corretta diagnosi di un leggero commozione cerebrale è essenziale per prevenire danni cerebrali o morte dalla sindrome da impatto secondario, SIS. Nella maggior parte dei casi che coinvolgono il SIS, un idema cerebrale massivo si verifica immediatamente dopo l'indema l'impatto, portando a morte o grave compromissione neurologica dopo che la vittima soffre di una seconda commozione cerebrale di qualsiasi grado. Per questo motivo, una commozione cerebrale compreso un allieve deve essere autorizzata a guarire correttamente prima di riprendere le normali attività fisiche. Il trattamento per i sintomi di un allieve commozione tipicamente coinvolge il riposo e l'osservazione. A seconda dei singoli fattori, una leggera commozione cerebrale potrebbe richiedere fino a una settimana per guarire. La completa assenza di sintomi di lieve commozione cerebrale è generalmente un segnale che la commozione cerebrale è guarita. È consigliabile che una persona ricerchi una consulenza medica professionale prima di intraprendere qualsiasi attività fisica, come gli sport, dopo aver subito una leggera commozione cerebrale.